Ciao a tutti, benvenuti allo wassafat melika. Oggi vi faccio marmellata di mele e il gusto di succo di limone e il gusto di zenzero veramente buonissima e facilissima. Se vi interessa state con me fino alla fine i denti un chilo di mele pelati tagliate bene 10 grammi di zenzero un succo di limone intero di acqua. Nel frullatore ho spremotto il succo del limone, lo metto con le mele, ho grattugiato zenzero, l'ho messo con le mele, ho rallato tutto, il tigame, 200 grammi di zucchero, colo bene tutto, lo colpo sul fuoco lento, lo lascio mezz'ora sul fuoco lento, quindi non è sempre a mescolare come vi ho detto. Ora mia mermellata è pronta, lo metto nel vaso. Mia mermellata è pronta, il gusto del limone e il gusto di zenzero veramente la fine del mondo, per farci anche i dolci, per fare le torte o per fare collazione, per fare la mia renda. Spero che vi piace mia mermellata, se vi piace mi fate il like, condividetevi, iscrivetevi, a domani un altro video nuovo. Ciao arrivederci a tutti i nostri ammellati,